Ciao a tutti, sono Claudio Calvani, sono partner di Vitale Debt & Grant, la società del gruppo Vitale che si occupa di reperire forme di finanza agevolata garantita dal pubblico e alternativa al ceto tradizionale. Vitale nel suo complesso nasce nel 2001 per supportare le aziende, soprattutto PMI, Mid Cap e Small Mid Cap, nel reperimento di forme di finanza agevolata, finanza garantita e finanza calmirata da quando siamo entrati noi a marzo. Precedentemente ha sempre supportato le aziende nelle operazioni di M&A, consulenza sales side e by side e consulenza alla ristrutturazione del debito. Siamo entrati a marzo perché era già in atto un progetto di Debt Advisory, quindi sono colleghi che supportano la Small Mid Cap e la Mid Cap in Acquisition Finance e progetti di debito un po' più grande e il nostro compito invece è di fare delle Acquisition Finance un po' più piccole e supportare in tutto quello che appunto è la finanza regionale, ministeriale, comunitaria e sovranazionale e alternativa al sistema tradizionale e soprattutto i cosiddetti Basket Bond che appunto nascono qui in Elite. Io sono orgoglioso di essere supporter di Elite sin dalla nascita per vari motivi. Uno tra tutti è che abbiamo sempre trovato all'interno dell'ecosistema creato da Elite, un network di aziende che avevano come noi l'obiettivo di mettere la competenza al servizio della crescita. Quindi sul tema del Debt & Grant ci siamo sempre offerti come advisor su queste tematiche competenti e aggiornati. Il tema del giorno e quindi l'impatto sui driver tipici anche della sostenibilità ci guardano in prima fila perché la finanza agevolata oltre all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione e alla crescita in generale guarda il tema del green in maniera molto importante. Quindi sempre più prima del PNRR, dopo il PNRR, gli strumenti della finanza agevolata e alla finanza calmirata guarderanno i KPI dedicati al green come KPI da supportare e da premiare oltre al merito creditizio tipico del ceto tradizionale.